Inizia un'altra settimana importante per la costruzione del nuovo Giarre 2014-2015 che da matricola sarà ai nastri di partenza del campionato di eccellenza. Ancora, come è naturale che sia, è ancora tempo di festeggiamenti anche se di pari passo la società è impegnata in attività di fundraising con un occhio particolare alla parte tecnica. Adesso il difficile è incontrare i calciatori uno per uno per discutere la riconferma, per concretizzare quella che è la volontà della società del presidente Di Martino cioè quella di mantenere l'intelaiatura della squadra che ha portato i gialloblu in quinta serie.